Bentornati sul mio canale, siete su Cartomantic e io sto per fare un interattivo per capire se è in arrivo un nuovo amore nella nostra vita. Restate con me! Salve a tutti, ciao, bentornati, bentrovati, benvenuti a chi è nuovo, siete su Cartomantic, io per un video al giorno, è una cosa che mi sono ripromessa da un po', oggi vorrevo fare un interattivo per capire se nella vita di chi un amore non ce l'ha è in arrivo un nuovo amore, ma anche per capire se è in arrivo un nuovo amore per chi l'amore ce l'ha già, perché non mettiamo limiti alla provvidenza, quindi siamo qua a vedere se nella nostra vita sta per apparire qualcosa che ci farà piacere o ci sconfussolerà o tutte e due le cose insieme. Come sempre, sapete, è un interattivo di quelli quotidiani con un sia o no, quindi utilizzerò i tarocchi, gli arcani maggiori, il mazzo del Norman, quello completo per ogni stesa, le userò tutte e 36 e poi ci faremo aiutare dai famosi oracoli degli angeli del cuore, così per avere un suggerimento in più. Trattandosi di un interattivo, lo ripeto per chi fosse nuovo qua, sono tre stese comunque generalizzate, ma nelle quali potreste, anzi dovreste trovare qualcosa che risuona con la vostra situazione. Ogni stesa è associata a uno dei tre simboli che qui, molto basic, sono le nostre tre solite candeline arancione, gialla e azzurra. Scegliete quella che secondo voi in questo momento risuona di più con voi, con come vi sentite, prendetevi tutto il tempo che volete e poi andremo a vedere appunto la stesa corrispondente, questa variante, se ci dirà qualcosa che sentiamo di poterci fare nostro. Quindi io adesso non dico nient'altro, vi lascio, vi lascio a scegliere la candelina che preferite, mettete se desiderate il video in pausa, ci rivediamo qua fra poco per la prima variante che è quella di candelina arancione. Allora, vediamo immediatamente che cosa aspetta candelina arancione che ha scelto questa variante in merito a un possibile nuovo amore, vediamo se non fate prendere fuoco, che potrebbe entrare nella sua vita. Questi li usiamo dopo perché prima io voglio vedere se arriverà questo nuovo amore e andiamo per le vie tradizionali, che per me sono appunto gli arcani maggiori e le norme, poi dopo ci rifacciamo magari studiando cosa ci dice poi l'oracolo del cuore, gli angeli del cuore. Vediamo innanzitutto se arriverà e come sarà. Il sole, dunque attenzione, è una carta sicuramente positiva, questo non ci vuole un genio per capirlo, però è una carta anche che ci parla di qualcosa che viene costruito, ci parla di legami di amicizia, di legami forti, magari anche che esistono prima di questo amore su quale stiamo interrogando le carte, quindi potrebbe anche essere qualcuno che da una posizione di amicizia si insinua in modo positivo nella nostra vita come qualcosa di diverso, potrebbe essere qualcosa che viene costruito lentamente, che trova poi una sua dimensione nuova nella nostra sfera affettiva. potrebbe, adesso guardiamo qua, cosa abbiamo al taglio, è qualcuno che arriva da lontano, però che vi ha un po' defraudato secondo me, qui abbiamo una situazione un po' di contrasto, un pochino, qui c'è qualcosa da ricostruire ragazzi, secondo me, non è nuovo nuovo, vedete, e qui è qualcosa che si è rotto, inclinato, ma poi ha continuato a circolare, che viene verso di voi, allora, dunque, qui abbiamo una rottura al centro, questa la vedete anche da soli, adesso, scusate, ma io avevo detto che ritenevo, per ultimi, per ultimi sono, pensavo di vedere poi alla fine, invece qui mi incuriosisce subito capire l'orientamento che ci danno questi oracoli, perché veramente non... voglio vederci chiaro da subito, tagliamo, esprimi il tuo amore, vai avanti così e compi un gesto romantico, dunque, adesso tiriamo le somme, così mi va bene, dunque, e allora, qui abbiamo qualcosa che si è interrotto bruscamente, e che però ha lasciato il segno, allora, la carta che dà proprio l'impronta alla stesa, voi vedete, è questo messaggero, messaggero è qualcuno che rompe nella vostra vita, qualcuno che passa dalla vostra vita, che torna nella vostra vita, per darvi una notizia, comunque per provocare un cambio nel vostro assetto attuale, però è qualcuno che è già presente, c'è già stato, qualcuno che ha avuto un'importanza notevole nella vostra vita, quindi qui è in arrivo un nuovo amore, io potrei dirvi in arrivo l'amore, questo sicuramente, perché lo vedo arrivare verso di voi, però qua c'è qualcosa che si è rotto e poi ricomincia, tant'è vero che sulla linea del futuro abbiamo proprio voi che ricominciate a parlare, a esprimervi, come vi dicevo, con qualcuno, allora, a questo punto, io direi che la carta del sole è effettivamente nel posto giusto, perché è qualcosa che va ricostruito, quindi io spero di non dare una delusione a chi magari di voi aspettava qualcosa di completamente nuovo, però è in dubbio, nel senso in dubbio, non ci sono dubbi, che qui si tratta di qualcuno che è già avuto un peso nella vostra vita, con il quale o con la quale avete avuto una frattura, e qualcuno però con cui avete mantenuto delle frequentazioni o comunque degli scambi, di qualcuno che è rimasto importante nella vostra vita, che fino a questo momento, cioè dopo la rottura fino adesso in questo interregno, nella vostra vita ha avuto comunque peso, quindi qua io non vedo qualcuno che è stato buttato fuori di caso, magari sì, però che poi dopo è rientrato in un'altra veste, qui cosa succede? che ci sono intanto delle conversazioni, quindi la carta nella casa risolutiva è questa, è una carta che parla di coppia, di conversazioni, di trattative, ma anche di chiacchiere come dico sempre un po' leggere, non superficiali, ma di chiacchiere divertenti, non stiamo parlando qua trattando di massimi sistemi, quindi è qualcuno che vi fa comunque stare bene, con cui però questa rottura c'è stata insomma la carta centrale, sapete che è molto importante dare il peso che si merita, questa dà l'impronta alla stesa, questa dà il risultato alla domanda che abbiamo chiesto, questa qui è quella che mi dà il nucleo da dove stiamo partendo, che cosa c'è da risolvere, che cosa c'è attorno a tutto quello che stiamo vedendo, al momento questa situazione è rotta, cioè questa situazione, questo amore è interrotto, è stato interrotto, però è rimasto qualche cosa, quindi siccome poi ci siete voi, sia sulla linea della testa, forse non l'avete mai dimenticato, forse non l'avete, anzi questo non forse, questa persona non è mai veramente uscita dalla vostra vita, quindi avete mantenuto, chiamiamoli dei rapporti, più che civili, qua vedo addirittura dei rapporti di amicizia, e inevitabilmente qua torna a sbocciare qualcosa, la cosa non vi dispiace secondo me, però vi lascia un pochino perplessi all'inizio, perché per l'unico motivo per cui potrebbe essere un po' di paura che si ripetano gli schemi del passato, oltretutto qui questa rottura che c'è stata nel passato, è stata una rottura difficile, sulla quale si è parlato, ma voi non sentite di aver detto la vostra fino in fondo, quindi ci sono ancora degli irrisolti, è ancora come se l'altra persona avesse deciso più di voi, quindi voi siete molto molto timorosi che questo possa accadere un'altra volta, cosa voglio dire? perché tutte le rotture sicuramente sono dolorose, però alcune lasciano degli irrisolti, possono essere quando ci si lascia così bruscamente, senza dire niente, ma anche quando è l'altra persona a decidere per noi e non ci lascia magari esprimere la nostra opinione, rivarutando, comunque dando giusto peso agli oracoli, se voi vedete vai avanti così e compie un gesto romantico, più che altro io starei proprio e esprimi il tuo amore, quando sarà il momento, più che l'amore, che certo che va espresso, altrimenti vedo difficile questo rantre nella vostra vita, credo che sia proprio importante esprimersi, punto, cioè dare, far capire che per voi è importante che venga dato peso anche a quello che voi pensate in merito a questa relazione, vorrei però soffermarmi maggiormente, più che su questo oracolo, molto bello e incoraggiante Max è lì, qui abbiamo invece un tarocco, un arcano maggiore che per me è fondamentale, perché qui è proprio collaborazione, costruzione di qualcosa insieme, è una carta positiva, quindi se la domanda è sì, arriverà un nuovo amore nella mia vita, allora intanto no, arriva l'amore nella vostra vita, ma è qualcuno del passato, è qualcuno con cui, quindi nuovo, 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 secondo me non è, è qualcuno con cui dovrete costruire qualche cosa, quindi si parte dall'amicizia, e come vi ho detto qua, l'amicizia c'è, è rimasta, e piano piano si arriva verso una situazione, appunto come vedete, l'amore c'è, adesso è ancora su nella sfera emozionale, non è ancora sceso nella sfera pratica, però poi alla fine le trattative ci sono, la circolazione di idee c'è, e alla fine arriviamo proprio a ricominciare una storia che per voi è stata importante, dunque questo è in linea di massima, quindi si tratta di qualcuno che è stato nel vostro passato, e con il quale avete rotto, volevo anche chiarire una cosa, quando io parlo di una persona che per voi è stata importante, come in questo caso, con la quale adesso siete amici, quindi con la quale c'è stata una rottura, nei termini che vi ho detto, allora per voi è stata importante, però qua potrebbe anche essere tranquillamente, qualcuno che c'è stato nella vostra vita, che per voi ha marcato un periodo importante della vostra esistenza, ma magari non è la storia, magari avete avuto una storia molto più importante in termini di tempo, di impegno, di convivenza, di tanti altri fattori, ma questa storia qualcosa nella vostra vita di importante l'ha segnato, quindi è qualcuno che arriva, ma arriva intanto completamente nuovo, perché teniamo presente questa cicogna, e arriva anche magari dopo tanto tanto tempo, irrompe, non vi aspettate, avete capito forse qualcosa, ma che di colpo si prenda un'altra piega, per voi è una bellissima sorpresa, perché avete avuto dei dubbi che potesse succedere, ma non avete usato spingervi così in là, diciamo, e pertanto è qualcosa che vi sorprenderà, quindi allora riassumendo il nuovo amore, no in un certo senso, non è una persona che non conoscete, è un nuovo amore in due sensi, nuovo perché non è l'ultimo che avete vissuto, quindi ci siamo, non è nuovo perché, come dire, vi ha segnato qualcosa nella vostra vita, e poi la vostra vita è andata avanti, arriva come persona nuova, come qualcuno che in questo momento nella vostra vita ha un ruolo completamente diverso, e comunque ha un ruolo che voi adesso un pochino state anche sperando e cardeggiando, ma non sapete bene che cosa sperare, siete molto timorosi e timorose, appunto perché comunque, più o meno consapevolmente questa persona vi ha fatto proprio star male, vi ha lasciato lì a bocca aperta, con le cose in sospeso e ha deciso per due, quindi siete un pochino scettici, il consiglio nelle carte in questo senso è questo, è quello di esprimervi, di esprimere anche le paure, perché comunque è una costruzione, io la chiamerei solidale, cioè siete proprio uno a reggere l'altro, siamo davanti a una forma di amore molto matura, è anche questo per voi una cosa nuova, perché non vedo che nella vostra vita, fino adesso ci sia stato qualcosa del genere, collaborate, dovete sicuramente metterci del vostro e anche mettendo da parte le paure, ci mettete del vostro, perché vedo che le vostre paure sono non indifferenti, giustificate, però arriva un momento in cui vedrete che questa cosa vi travolgerà, perché arriva abbastanza in modo repentivo e anche un po' inusuale rispetto al carattere della persona che è chiamata in causa, quindi senza fare troppa fatica, poi vedrete che tutte le vostre reticenze, i vostri dubbi, le vostre preoccupazioni andranno svanendo e dovrebbe veramente per voi aprirsi un periodo molto molto positivo, quindi la risposta è come sempre, no, ma sì, cioè sì perché arriva una persona che per voi è come se fosse nuova, non è una persona nuova dal punto di vista della conoscenza, ma è nuova per come si presenteranno le cose, è sicuramente un rapporto molto bello e per le premesse che vedo qui, ma soprattutto per questo arcano, destinato a durare, perché si fonda su delle premesse decisamente mature di un amore consapevole e di un amore vissuto in modo collaborativo, quindi anche romantico, non vi preoccupate, non è che vi sto dicendo di mettere su un'azienda con questa persona, anzi, sarà una cosa molto romantica dove dovrete esprimere e dovrete lasciarvi un po' andare, quindi è in arrivo sì una persona nuova solo per il modo in cui si propone, però è vecchia nel senso che già la conoscete e già vi ha lasciato qualcosa nella parte precedente della vostra vita, di questa vita, quindi candelina arancione, io spero con questo di non aver generato il panico, se ti aspettavi qualcuno di completamente nuovo o no, però a leggere tra le righe direi che ti arriva sì qualcosa di nuovo e di molto molto bello e molto romantico, quindi via le paure, buttati, esprimiti, fatti valere e basta, ci rivediamo qua poi, nel frattempo, se ti è piaciuto il video, metti il like, se non l'hai ancora fatto, vuoi iscriverti, sai che mi fa sempre molto molto piacere che ci aiuti a crescere e per il resto attiva le notifiche, se vuoi cliccando sulla campanellina, per il resto ti do appuntamento a domani per un video al giorno qui su Cartomantica. Allora, adesso è il turno di chi ha scelto la candelina gialla per questa variante, andiamo a vedere se è in arrivo un nuovo amore, naturalmente, ripeto, qui stiamo parlando di qualcuno che entra nella nostra vita come qualcosa, qualcuno, scusate di nuovo, di solito è una domanda che viene da chi è solo, però non è che siamo limitati a questo, quindi siamo aperti a tutto, andiamo a vedere qual è l'arcano che caratterizza questa spesa, la ruota della fortuna, beh, direi che insomma qualcuno all'orizzonte potrebbe anche essere, anche più che all'orizzonte, vediamo un po' che cosa ci dicono le norme, la ruota di fortuna, allora esistono tanti tipi di interpretazioni dei tarocchi, io di solito distingo in linea di massima tra la diffusione un po' popolare generalizzata dei significati delle carte e quella invece un pochino più approfondita, di solito così come chi vede la morte si spaventa, chi vede la ruota di fortuna dice evviva, che bello una colpa di fortuna, una ruota di fortuna non è questo, la ruota è la ruota che gira e sono occasioni che noi possiamo cogliere o no, quindi qui già mi parla di un po' di possibilità, di qualcuno che entri nella nostra vita, però non è detto, infatti qua, allora, qui abbiamo una situazione di partenza un po' complicata, probabilmente avete appena rotto o comunque siete stufi di stare soli e c'è stata questa rottura che un po' vi ha segnato la vita e avete voglia di rinnovarvi, infatti, è qualcosa di nuovo che entra nella vostra vita, sì, qui c'è stato proprio un taglio che vi ha procurato veramente un grosso dispiacere, Allora, un amore nuovo, volete? Sì, allora, è un amore nuovo per voi, non per qualcun altro, quindi qui vi arriva qualcuno di impegnato, io adesso però, come prima, voglio andare a vedere che cosa ci dicono qui, questi famosi oracoli degli angeli dell'amore, che è un po' come pescare alla lotteria, sì, no, forse, vedete, magari dare una spentarella più di una parte, più dall'altra, ma alla fine io, per me, quello che conta e che guardo sono gli arcani delle normal, allora, tagliamo e vediamo, meriti amore, ah, vabbè, su questo siamo assolutamente tutti d'accordo, che meriti amore, per carità, però, meriti amore dopo, vedi, meriti amore dopo questa sonora batosta che ti sei preso in passato, qui è la rottura di qualcosa di serio, adesso non che se uno è sposato è più serio che se non lo è, io qua parlo di legami dove c'era anche, arriviamo a convivenza, arriviamo a matrimonio, qualcosa che si è rotto, che era già stabile, con della sofferenza che andrebbe al di là di quello che ragionevolmente io vorrei vedere, qui vediamo anche abusi, qualcosa di pesante, che vi ha condizionato la vita, voi adesso volete sicuramente qualcuno di nuovo, l'invito è intanto a ricordarvi che meritate amore, l'altra è di saper cogliere le occasioni, perché qua io vedo una situazione di partenza, un po' di paura, un po' di reticenza, giustamente un pochino di cautela, che è giustificata per quello che avete avuto, non è giustificata per quello che vi arriverà, allora che cosa vi arriverà, finalmente dovrebbe arrivarvi qualcuno, ma dovete avere il coraggio di sentire che ve lo state proprio meritando, dovrebbe arrivare qualcuno che vi rischiara la vita, vi vedo un po' dubbiosi o dubbiose, perché si tratta di qualcuno che o è ancora impegnato, ma vi dico per poco, perché qui siamo alle soglie di un divorzio e di una separazione, o di qualcuno che lo è stato, ma si trascina ancora un pochino gli esiti di quello che ha vissuto, così come lo state facendo voi, in modi diversi, qui la persona che vi arriva ha dei problemi tangibili, seri proprio di amministrazione, di gestione pratica, di situazioni che non lo lasciano tranquilla, sono però cose che vanno sistemandosi, e man mano si sistemerà questa cosa, tanto più voi sarete lì ad accogliere questa persona, per favore, qui la raccomandazione è davvero, io credo tanto tenuti in secondo piano, qui veramente l'intervento di questa carta degli angeli è molto importante, soprattutto insieme alla ruota di fortuna, dovete veramente allinearvi con quello che vi meritate, vi meritate qualcosa di bello, questo vi permetterà di cogliere l'entrata di questa persona, perché altrimenti non dico che ve la perdete, perché comunque è qualcuno che entra nella vostra vita e si fa capire, non è certo lì ad aspettare di essere compreso o compresa, però rischiamo qua, se non ci diamo un po' una sistemata, di sentirci che, caspita, con tutto quello che mi è successo prima, con tutto quello che ancora devo digerire, con tutte le cose brutte che mi sto mettendo alle spalle, non ho voglia di vedere questa persona, come un possibile partner, una possibile partner, perché anche questa persona ha tanti problemi, perché io mi farei un sacco di sensi di colpa, perché non riuscirei comunque a superare quello che c'è stato, perché mi sentirei l'altra, perché questo o l'altro, comunque, ripeto, io parlo sempre come se fossi io, però declinatelo come preferite, e quindi qui rischiate di sbarrare un po' la strada, quanto di bello questo nuovo amore può arrivare, è un amore che arriva, comunque non è che ne andate a prendere, quindi potete anche fare i difficili, le difficili, ma tanto deve arrivare, quindi la new entry c'è, attenzione però a lasciarla entrare, non lasciarla sulla porta in attesa di tempi migliori, perché vi perdereste una parte bella della vostra vita, e anche per molti la possibilità di fare un bel tragitto insieme, un bel percorso, anche di un certo peso, di una certa lunghezza, quindi insomma come sempre, io finisco sempre andare a dire che dipende da voi, ma qua più che in altri casi, non mettete da parte quello che vi arriva, perché vi arriva, certo è una persona che o è ancora impegnata, o lo è stato fino a poco fa, quindi questo comporta, che si porti dietro, che vi butti un po' addosso, non volontariamente che voi vi prendiate addosso, un sacco di effetti collaterali, che sono il senso di colpa, la paura di sfasciare una famiglia, per sicuro di no, perché qui la famiglia è già sfasciata, se no ve lo direi, anche non avete voglia di essere anche al margine, ma di ulteriori conflitti, perché già ne avete avuti molti, scrupoli anche magari per chi avesse dei figli, perché c'è anche questo, di non vedere accettata la nuova persona dai figli, o se questa persona, perché potrebbe anche essere questa persona ha figli, la paura di sentirsi un po' un intruso, un intruso in tutto questo, quindi di vedere tutto il lavoro che avete fatto su voi stessi, per digerire questa bruttissima rottura, che c'è alle vostre spalle, di mandare un po' tutto a catafascia, di ricominciare a sentirsi male, inadeguati, tristi, preoccupati, fuori luogo, assolutamente no, che dirvi, e certo questa non è una situazione che si verifica domani, direte voi, lo credo, tanto adesso siamo in quarantena, queste sono stese che comunque io faccio adesso, in questo periodo di quarantena, ma che sia ben chiaro, sono atemporali, quindi questo potrebbe anche succedere, se voi vedete questo video fra, non lo so quando finirà questa cosa, dovrei saperlo, ma non lo so, non voglio pensare, se la vedrete fra un anno, diciamo, quando sarà tutto abbondantemente, mi auguro superato, lo stesso sono tempi un po' lunghetti, ma almeno per i tempi, non dipende da voi, i tempi qua sono lunghetti, perché in questo momento la vostra situazione, è ancora un po' di ripiego, su voi stessi e grazie a Dio, proprio l'universo si muove in modo misterioso, ma sempre puntuale, questa persona adesso si sta risolvendo questi guai, che si è attaccato e quindi il tempo per voi di riprendervi, di cercare di avere voglia di uscire, anche se, scusate, permettetemi se voi siete qui a chiedere se arriva un nuovo amore, forse già siamo a buon punto, però un tempo che voi ci impiegherete, per ricostruirvi un pochettino, è il tempo che questa persona impiegherà per lasciarsi alle spalle anche lui questo vissuto, certo non bello, non come il vostro, ecco io qua vorrei chiarire come faccio spesso, quando escono delle varianti molto chiare, molto nette, questa è proprio una cosa che esce per chi ha un trascorso molto, molto, molto problematico, se avete avuto una storiella che si è rotta, allora non vi vedo proprio qua dentro, per quanto anche qui, se pur trattandosi di una storiella, magari siete molto giovani, e quindi per voi è stata comunque una cosa che ha lasciato il segno, potrebbe anche essere, il problema è che qui io non vedo solo un segno come dolore, come dispiacere per la separazione, qua vedo, io ho detto, anche se arriva all'abuso, proprio magari anche solo verbale, però è una storia brutta, insomma di quelle che a me non piace vedere quando faccio le stese, perciò diciamo che è una variante che lascerei a chi almeno in parte si può riconoscere in questo passato. Adesso voi state ancora cercando di raccattare un po' i pezzi, sicuramente siete in una situazione più favorevole di prima, non siete ancora tranquilli per quanto riguarda il vostro, la vostra ex, perché vedo che c'è ancora un po' di fastidio, magari anche soltanto a ripensarci, però è ancora una presenza di disturbo nella vostra vita, ne state uscendo e certo sentite giusto, un nuovo amore risolverebbe molto. Io sconsiglio sempre, scaccia chiodo perché sì, non sto parlando infatti di questo, sto dicendo che voi ormai questa storia la vorreste alle spalle, l'avete alle spalle sentimentalmente parlando ma psicologicamente vi sta ancora condizionando molto, avete bisogno di riaprirvi, di rifiorire e qua sentite e sentite correttamente una persona di tutt'altro tipo che possa farvi riscoprire cosa vuol dire una sana relazione di coppia, in questo momento vi aiuterebbe proprio a dare quell'ultima sferzata di energia necessaria a uscire da un periodo veramente che più nero non si può. Questa persona in questo periodo sta anche risolvendo dei problemi, ripeto, non paragonabili per pesantezza quello che avete passato a voi ma sicuramente sono problemi magari più pratici ma altrettanto pesanti soprattutto perché qui c'è un rallentamento, è qualcosa di anche a che vedere con la burocrazia e quindi guarda un po' chissà com'è quando c'è la burocrazia mi escono anche i rallentamenti. Voi siete già praticamente entrati nella traiettoria di questa persona, voi ci siete già, non vi dico che lo conoscete già o che la conoscete già però state almeno per incrociare i vostri destini. Quindi per fare anche un attimo il conto della situazione, qui abbiamo questo che domina tutto, perciò è una carta che come potete bene immaginare trattandosi di un nuovo amore mi dà già molte speranze. È una carta però ricordiamoci ciclica che quindi non vuol dire soltanto un rapporto che si chiude positivamente ma è anche paragonabile a questa ruota quindi si tratta di riuscire a salirci su questa ruota. Chi può farlo? Voi lavorando su di voi già l'avete fatto tanto può farlo un pochino al destino che ci si metterà un po' di mezzo a farvi incrociare questa persona. La risposta, allora la risposta perché io vi dico di sì quando invece qui abbiamo una carta che sicuramente positiva non è. Allora qui intanto dipende da come la vogliamo vedere non è sempre negativa. La carta della torre è una carta che mi dice sì isolamento e solitudine però dipende molto è una carta in parte neutra tra le varie valutazioni che si fanno nel normal perché a volte invece è ufficialità è qualcosa di ufficiale non vuol dire solo isolamento non vuol dire solo reclusione come può voler dire anche ufficialità addirittura nel senso di uffici mi suona per esempio un municipio, un comune o un palazzo dove si tengano cerimonie in questo caso è l'ufficialità ufficialità ma anche burocrazia quindi è un sì è un sì che soprattutto se lo abbiniamo a questo è bellissimo quindi bisogna sempre, ricordo mai, anzi sempre mai utilizzare Ellen Norman da sole per il solo significato della singola carta questo è un amore che diventerà forte e potente nella vostra vita quindi è un sì adesso ci sono tante cose ancora da scollare da schiodare dal vostro vissuto e da quello dell'altra persona l'altra persona in questo momento si sta liberando o si è recentemente liberato liberata da un'altra presenza che fortunatamente non avrà nessuna poi influenza sulla vostra storia perché vedo liberi rispettivamente dai regami precedenti e felici di stare insieme dovete soltanto tenere presente che adesso inizia una nuova tappa della vostra vita che vi meritate tutto che quello che arriva è arriva perché è così non state facendo male a nessuno anzi starete facendo del bene a voi stessi e all'altra persona quindi attenzione ragazzi della candelina gialla o ragazze della candelina gialla sta a voi cogliere questa occasione siete un po' come due anime ferite che si curano e si trovano quindi non fatevi non indugiate troppo raccogliete questa possibilità e fatene un buon uso perché vedo che poi c'è la possibilità davvero di andare oltre e avere una relazione con la R maiuscola con fiocchi e contro fiocchi perché spesso le sofferenze poi alla fine portano qualcosa che rinasce e qui la rinascita c'è quindi la risposta alla domanda se arriverà un nuovo amore sì arriverà un nuovo amore e sarà molto intenso spero almeno sofferto possibile se lo sarà sarà soltanto perché avrete bisogno di un po' di tempo per la ricostruzione di voi stessi più che dell'altra persona quindi basta indugi e sappiate che vi meritate questo amore che entrerà nella vostra vita così come quest'altra persona merita voi quindi vi incontrerete proprio nel momento giusto al posto giusto è un sì a tutto tondo anche se è un po' faticoso ma la fatica sta per finire candelina gialla allora se ti sei riconosciuto in questa stesa le cose stanno così e solo così quindi stai tranquillo qualunque altro tipo di dubbio dovessi avere non ti preoccupare tutto si rischiara se invece non ti fossi riconosciuto ti invito spero che tu non sia arrivato fino a qui a sentirtelo dire ti invito a guardare le altre stese quindi se invece ti sei riconosciuto e ti è piaciuto ti chiedo di mettere il like a questo video naturalmente commenta condividi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attivare le notifiche con la campanellina intanto ti faccio tanti tantissimissimi bocca al lupo e ti do appuntamento domani per un video al giorno qui su Cartomantic bene adesso siamo a considerare la situazione di Candelina Azzurra che vorrei sapere appunto giustamente finalmente se arriverà un nuovo amore nella sua vita e iniziamo subito a mischiare gli arcani maggiori da quali traremo una prima carta che ci dovrà essere di aiuto e sostegno nella lettura dell'Ele Norman poi vedremo appunto sia l'Ele Norman sia gli angeli del cuore che abbiamo qua che abbiamo visto io a volte di mal tratto però in questa ultima lettura sono stati veramente importantissimi vediamo che cosa ci esce qui il carro bello il carro intanto se vogliamo prendere soltanto sì o no direi il carro è una carta positiva quindi arriva arriva in viaggio questo nuovo questo nuovo amore quindi mettiamo da parte gli arcani maggiori andiamo subito a vedere che cosa abbiamo qua nella l'Ele Norman se ci dice qualcosina in più di questa nuova presenza che deve entrare nella nostra vita chissà qualcuno che adesso è un po' impegnatino o un po' bloccato però qua c'è una carta del segreto ragazzi allora vediamo ma mai una cosa semplice mai allora intanto arriva eccolo là arriva nel futuro con la sua scelta arriva e viaggio guardate che cosa bellissima il carro e il cavaliere e pensate che appunto come vi ho già detto non è che sono giochi di carte che possono essere messi a paragone dopo carta anzi sono due modi proprio diversi di concepire le letture ma di fatti anche il carro e il messaggero non è che siano carte che hanno in comune qualcosa in più del cavallo e del movimento però anche questa idea della novità che arriva qui ci dice di più qui ci dice che qualcuno che arriva è una risposta affermativa noi chiediamo se è in arrivo un nuovo amore e il carro ci dice assolutamente è una situazione trionfante e decisamente affermativa mentre le norme anche sono un pochino più pratiche se vogliamo ci dicono che sta proprio per arrivare che fa una sua scelta e che arriva verso di noi adesso voglio vedere perché giocosità per conquistare l'amore e lasciare risprendere lo spirito giovane divertente che è in te beh ma perché scusate mi si permettono come fossimo odiosi allora giocosità giocosità intanto per essere giocosi bisogna avere le premesse per poterlo fare perché non è che si ha sempre voglia di essere giocosi scusate io ogni tanto mi arrabbio con le carte poi verrò probabilmente punita la prossima volta che le mischio mi saltano per aria io lo so ma non importa andiamo subito a vedere allora qui c'è qualcosa di segreto che sta per rompersi il segreto sta per scoppiare abbiamo come carta della stesa che domina la stesa quest'ancora che si sappiamo che è di stabilità ma anche di fedeltà ma anche di stasi quindi è qualcosa che per adesso è rimasto fermo qualcosa secondo me guardate io ci vedo qualcosa nel passato lo so che voi mi state chiedendo una persona nuova già la seconda volta che vi dico che invece nuova non è allora può darsi che sia qualcosa di nuovo perché il bambino comunque è una novità quindi qui ci sarebbe però è nel passato vedete quello che mi frega questo bambino potrebbe essere una novità una persona nuova che diventa la chiave della vostra vita però e poi no scusate fermiamoci poi abbiamo anche questo che è la risposta decisamente una risposta affermativa e per una volta mi sbilancio anche in tempi brevi perché questa è una carta molto rapida come poi andremo a vedere il cavaliere comunque il cavaliere è qualcuno che rompe nella vostra vita una novità una persona che arriva così senza tergiversare troppo e in tempi appunto dicevo abbastanza rapidi senza tante attese tanta sana d'attesa che dire allora qui abbiamo qualche segreto qualcosa di nascosto di non bello che salta alla luce e questa persona che poi decide di venire da voi e fin qui potrebbe anche esserci poi potremmo analizzare un po' quali sono gli scenari ma sul passato quest'ancora col bambino è come se in passato questa persona almeno in modo fugace però nel vostro passato ci fosse già state e abbia contato anche abbastanza cioè ci sono quelle presenze magari così sporadiche che però contano molto nella vostra vita che dirvi io io sarei per comunque ignorare un pochino questa cosa e vi direi che è una persona nuova che in questo momento ha avuto una brutta sta avendo una brutta esperienza che sul passato forse chissà forse era destinata a voi non vi siete incrociati o forse è rimasta a lungo in una situazione e adesso ha voglia di rinnovarsi può essere anche questo insomma una delle due lo so che bisogna scegliere allora io così a naso direi che è qualcuno che ha desiderio di rinnovarsi è qualcuno che sta stretto in una situazione questo è quello che direi io che in passato proprio c'è stato stretto in una situazione adesso ha l'occasione per liberarsi di un legame fa una scelta e per un caso per un incontro per i luoghi a cui lo porta questa scelta di allontanarsi da questa situazione si imbatte in voi ma proprio una quasi una coincidenza si imbatte sul vostro cammino e diventa davvero qualcosa di importante lo stesso potrebbe essere di voi peccato che qua mi appaia l'altra persona cioè lo stesso discorso che potevo fare cioè qualcuno che ha cercato a lungo un'occasione di liberarsi dalla situazione in cui sta vivendo e che finalmente ha un appiglio di qualcosa che gioca a suo favore per troncare e arrivare da chi perché se foste voi mi sareste usciti voi invece qui mi è uscita questa persona quindi facciamo così cerchiamo di essere pazienti con queste le norman prima che perdano loro la pazienza con me sicuramente sul futuro vi dico qualcuno in cui vi imbattete che arriva e vi sconvolge la vita che però ha fatto una scelta ha la scelta proprio di venire da voi sul presente e il passato sono due gli scenari o per me è quello più plausibile che si tratta questo presente e questo passato mi servono a identificare la persona che viene da voi quindi è una persona che a lungo è rimasta in una situazione che non tollerava più e che grazie a qualcosa che è venuto alla luce ha preso la palla al balzo si è liberato di questa galera e ha scelto di stare libero ma appena si libera si batte in voi e qui poi sono fatti vostri nel senso che la carta è molto bella ma poi che sviluppi ci saranno qui non mi è dato ancora di sapere oppure siete voi che avete vissuto con un desiderio proprio di libertà che non era esaudito ma che poi alla fine per una serie di circostanze avete potuto finalmente esaudire questo desiderio e quindi siete riusciti a evanere da una situazione un po' soffocante e non appena uscite trovate quest'altra persona con la quale per caso vi trovate a interagire e si rivela il nuovo amore della vostra vita io ve le ho dette entrambe sapete però che io sono un po' zuccona quindi quando mi metto in testa una cosa è quella io rimango nella mia idea che qui questa è la storia e il vissuto della persona che incontrerete naturalmente siccome io non sono il verbo ci mancherebbe se qualcuno di voi si riconosce in tutta questa storia ma pensa che questa cosa sia riferita a voi allora ci sta il narrato è questo la storia è questa a chi applicarla io si sto dicendo così è estinto io l'applicherei alla persona che entra nella vostra vita però se voi vi riconoscete in questa storia sicuramente è la vostra non è che posso dire no la togliamo non è vero niente e appartiene alla persona che incontrerete no c'è questo narrato che io applico così a questa persona una persona direi bella intraprendente comunque a maggior ragione insisto non so che sono Zuccone una persona che finalmente ritrova la voglia di vivere quindi a maggior ragione io sarei proprio per questa versione ma comunque se così non fosse è qualcuno che vi dà una bella carica di energia perciò chiunque sia benedetto il cielo che arriva perché veramente ecco vedete la giocosità io me l'ero dimenticata per riconquistare l'amore e lasciare risprendere lo spirito giovane divertente che in te e sì era proprio qualcuno o siete voi che non ne poteva più ma era proprio esasperato dalla vita e finalmente ritrova la voglia di giocare di rimettersi in gioco insomma di giocare un po' con l'amore di essere anche un po' spensierati perché non è che l'amore è sempre attaccarsi alle tende tirarle giù tipo era un'ora d'usa sono anche queste le cose belle che muovono le relazioni amorose non è sempre tutto tragedia beautiful come dico appunto cioè ci sono anche le cose belle la quotidianità il divertirsi insieme quindi questo carro e questa persona è in viaggio verso di voi quindi se è questa persona che si sta liberando da questa situazione molto bene ce la sta facendo e poi vi incontrate se siete voi sappiate che se siete in questa situazione un po' liberatoria vuol dire che siamo al limite con i tempi quando questa persona arriverà tempi che come dico per una volta mi sbilancio perché questa è una carta decisamente veloce ed è questa che risponde fosse stata l'ancora allora magari c'era da aspettare ancora un tantinello ma grazie al cielo non è così è tutto basato su questa cosa che emerge e dalla quale scaturisce la possibilità di liberarsi o liberarvi da qualcosa che adesso vi sta appesantendo la vita e anche il vostro concetto di amore finalmente torniamo a sorridere un po' sarebbe anche ora insomma ripeto questa è una previsione a temporale quindi questo desiderio di giocare di essere un pochino più sereni non è solo riferito alla situazione che stiamo vivendo nel momento in cui sto girando il video ma in generale quindi sappiate che insomma sono finiti i tempi delle lacrime dei drammoni e dello sbattere di porte rompersi di piatti vi sta per aspettare una situazione sicuramente più leggera ma non per questo meno importante sta per arrivare finalmente una persona con la quale sospirare tirare un sospiro di sollievo e divertirsi che non c'è niente di male anzi fa bene la salute quindi candelina azzurra finalmente un risponso è toccato a te questa volta un risponso all'insegna un po' della leggerezza e dei sentimenti belli espressi in modo giocoso appunto come abbiamo visto dall'oracolo quindi io spero che questo video ti sia piaciuto e quindi nel caso se hai voglia metti il like naturalmente ti chiedo anche se hai voglia di iscriverti al canale e di attivare le notifiche con la campanellina così resterai sempre aggiornato ogni volta che metterò un video per il resto sempre per la serie un video al giorno io spero di trovarti qua domani qui con me su Cartomantic molto bene noi con questo abbiamo finito anche per oggi per un video al giorno abbiamo scoperto diverse cose per chi era in attesa eventualmente di un amore nuovo di qualcuno che rompesse nella nostra vita per darci una ventata d'aria fresca soprattutto sul punto di vista sentimentale spero con questo di aver risposto a tutte le vostre aspettative se vi sono piaciuti i video ripeto mettete il like ma soprattutto iscrivetevi al canale che sta crescendo soprattutto grazie a voi e io non posso far altro che ringraziarvi con questo io vi do appuntamento a domani qui su Cartomantic e insieme a me per un nuovo video un nuovo interattivo per un video al giorno vi aspetto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti